Logos Web Radio Daniele Rusciglio, in merito alla gestione del territorio. Quali sono le problematiche abitabili principali del nostro territorio? Noi abbiamo un territorio che è molto vasto ed è un territorio che parte dalla pianura e quindi in particolare su quello che sono i comuni di Bazzano e di Crespellano va fino alla zona peninica con il comune di Savigno. È un territorio di oltre 120 km² che presenta delle problematiche tipiche di tutti i territori per peninici. Quindi tutto il tema del discesso idrogeologico è un tema molto delicato e che merita un'attenzione particolare. Sul nostro territorio abbiamo diversi problematiche a livello fluviale quindi sui nostri torrenti e anche sulle strade e ogni anno noi investiamo molti soldi per tentare di arginare quello che è un fenomeno di discesso sul nostro territorio che purtroppo è molto importante. Devo anche dire che negli ultimi anni purtroppo i fondi di esposizione sono sempre meno e i problemi sono sempre di più dovuti anche a delle condizioni climatiche che sono cambiate negli ultimi decenni che prevedono un passaggio tra le stagioni molto nette quindi non abbiamo più delle stagioni intermedie abbiamo dei fortissimi acquazzoni e dei momenti di siccità molto prolungati e questo naturalmente diventa un problema da gestire molto importante. Per questo noi ci siamo attivati naturalmente con tutti gli organi proposti perché l'organo proposto principale è l'agenzia regionale che segue tutta la tematica del discesso idrogeologico e con loro stiamo cercando di fare un lavoro soprattutto di prevenzione perché è veramente molto importante prevenire più che andare ad operare laddove poi il disastro è successo. Proprio recentemente i fatti di Genova ci insegnano che è molto più importante investire prima che poi sistemare i disastri dopo anche perché possono essere veramente devastanti e possono anche esserci dei problemi di perdita di vita umana come ad esempio è successo a Genova. Per questo insomma c'è una collaborazione molto forte quello che vi posso dire io come amministratore come sindaco del comune di Monteviglio come anche rappresentante dell'assessore all'ambiente di tutta la vallata e che purtroppo in Italia non c'è la giusta attenzione a livello nazionale su queste tematiche e quindi ad esempio il fondo per il discesso idrogeologico che era di circa 500 milioni di euro nel corso degli ultimi anni è passato a 80 milioni di euro. Quindi è veramente una cifra piccolissima per un territorio come quello italiano che per la sua conformazione necessiterebbe invece di un investimento forte per promuovere delle politiche di prevenzione e non sempre andare a piangere sul latte versato solamente dopo che il disastro è successo. C'è un piano preventivo e risolutivo? C'è un piano preventivo e risolutivo è una parola molto difficile da usare su una cosa come questo. Noi abbiamo proprio quest'anno approvato un piano di protezione civile nuovo con una collaborazione che ci è stradatta dai Vigili del Fuoco di Bazzano e quindi abbiamo creato una collaborazione importante che ha previsto un presidio centralizzato nei casi di calamità naturale che coordina tutti i vari presidi locali con anche un piano proprio di protezione civile aggiornato che tra l'altro poi sarà aggiornato proprio nel corso del 2012 perché questa convenzione l'abbiamo stipulata qualche mese fa e che va a superare anche alcune criticità relative al nostro territorio perché era un po' di anni che non si aggiornava il piano di protezione civile. Quindi con questa collaborazione che è triennale noi grazie anche appunto alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Bazzano riusciremo ad avere questo piano di protezione civile che coordinerà eventualmente le azioni in caso di calamità naturale. Questo per noi è stato un passaggio molto importante e tra l'altro in un momento di scarsa disponibilità finanziaria come questo noi abbiamo scelto invece di investire su questa tematica perché come vi dicevo prima bisogna investire sulla prevenzione anche perché facendo un semplice conto economico costa molto meno investire sulla prevenzione che poi dopo andare a riparare il danno che può essere fatto. Come vi relazionate con la protezione civile nel caso di necessità? All'interno di questo protocollo ci sono tutti i meccanismi appunto di attivazione degli allarmi grazie alla convenzione che abbiamo stipulato quest'anno di fatto ci sarà questo centro sovracomunale che avrà sede a Bazzano che si occuperà di coordinare tutte le azioni a seconda della varia calamità che può accadere. E questo ripeto ancora una volta è molto importante perché attualmente è tutto lasciato un po' al buon senso delle persone mentre con questo protocollo noi crediamo di mettere in campo uno strumento che proprio in caso di problematiche sappia allertare le persone giuste che possano intervenire sul problema perché la calamità naturale può essere di tanti tipi dall'esontazione di un fiume a una frana a una strada che viene coperta da una salavina quindi insomma a seconda della varia di emergenza ci sarà questo coordinamento centralizzato sull'intera valle Samoggia che ci dirà cosa dobbiamo fare a seconda del caso. Ha dei consigli per l'amuardo dell'Abbietto? Io credo che la prima cosa da fare soprattutto dal nostro punto di vista come amministratori sia quello di arrivare a pianificare le urbanizzazioni sul territorio in un modo coerente e in un modo che possa rispettare l'ambiente. Noi stiamo costruendo un piano urbanistico sovracomunale che si chiama piano strutturale comunale non solo all'interno dei comuni della valle Samoggia ma coinvolgendo anche i comuni di Zola e stiamo cercando di pianificare servizi laddove il territorio consente di inserire determinati servizi perché non ha senso andare a fare delle industrie nella zona peninica come non ha senso andare a costruire delle case su un versante che sappiamo benissimo che ha rischio smottamento perché poi dopo è chiaro che ci saranno dei problemi. Quindi questo piano che si sviluppa da un territorio molto vasto dal Zola Predoso fino a Savigno ci ha consentito di fare le scelte per il futuro installando e inserendo le nuove urbanizzazioni le nuove zone artigianali o lavorative laddove ci sono già le zone infrastrutturate o dove non ci sono rischi ad esempio di disondazione o di disseste idrogeologico. Mentre abbiamo fatto un lavoro grazie a questo piano anche di preservare quella che è la Quinta Colinare quella che è la zona preapenninica che è notoriamente più sensibile da questo punto di vista e poi la preserviamo anche perché per noi è veramente un valore aggiunto perché le bellezze del nostro appennino poi possono essere un valore non solo come valore di soluzione del nostro territorio ma anche un valore economico per promuovere il turismo per promuovere l'agricoltura e cercare di cambiare passo anche in una fase economica come questa dove tutti noi dobbiamo probabilmente cominciare a cambiare logica anche rispetto ai tipi di lavoro che facciamo noi in questo momento che utilizzando anche le nostre esperienze del passato possono trasformarci in nuove opportunità e quindi ad esempio valorizzando il nostro patrimonio turistico progetti per il futuro la maggior parte sono tutti quelli contenuti all'interno di questo piano strutturale perché tantissime indicazioni sono date lì dentro ci stiamo muovendo dal punto di vista delle politiche ambientali diciamo ad ampio spettro quindi ad esempio il tema dei rifiuti è un tema che noi stiamo affrontando in modo deciso il comune di Montevideo ad esempio è stato il primo comune della provincia di Bologna a partire con la raccolta differenziata spinta quella porta a porta e quindi ad esempio siamo passati dall'11% di raccolta differenziata al 70% come noi anche altri comuni della Valle Samoggia hanno seguito questi esempi quindi il nostro territorio ha un livello ad esempio di raccolta differenziata molto spinto stiamo facendo un lavoro ad esempio sul tema dell'acqua e quindi rispetto di questa preziosissima risorsa quindi consumarla meno, consumarla meglio stiamo facendo un lavoro con le scuole per superare l'uso dell'acqua delle bottiglie che ovviamente produce inquinamento perché i camion che la portano in giro poi le bottiglie di plastica da smaltire sono un problema e quindi abbiamo fatto anche tutta una serie di lavori in questo senso e poi anche altre piccole cose come la promozione del consumo dei prodotti a chilometri zero quindi la filiera raccolta utilizzare ad esempio i prodotti agricoli del nostro luogo al posto di andare a prendere quelli importati chissà da quale parte del mondo nella nostra scuola abbiamo introdotto anche ad esempio i pannolini lavabili per limitare il consumo il problema poi dello smaltimento e il consumo di risorse poi per creare il pannolino tradizionale mentre quello lavabile produce diversi risparmi insomma tutta una serie di politiche che stiamo tentando di fare per sensibilizzare la popolazione soprattutto quella più giovane perché la popolazione più giovane è poi la comunità del futuro quindi lì bisogna investire secondo noi e bisogna investire bene e fare un'attività di informazione e di educazione importante perché io credo che poi i prodotti verranno proprio da lì grazie sindaco grazie a voi per essere stati qui e a presto e buon lavoro abbiamo appena sentito Daniele Lucigno che ci ha parlato della problematica ambientale della Valle del Samoggia e dell'importanza di investire sulla prevenzione e di sensibilizzare i giovani alla stravoguardo dell'ambiente un saluto da Massimo Annalisa Cristian Francesca